lanciamo la linea al nostro Fofo a te Fofo a te Fofo oh ma che onore essere salutato dal grande Geronimo Stilton io sono un tuo grande ammiratore vorrei fare anch'io l'esploratore insieme a te e andare a scoprire gli ossi più preziosi del mondo mi chiameranno Fofo Jones e a proposito sapete come si chiama il più grande esploratore dell'antichità? dinozauro e nel tempio del grande tesoro abbiamo trovato le vostre foto eccole qua guardiamole insieme e abbiamo qui Cesare ah stai facendo i pesi per l'estate vuoi fare il fisico è vero? Pepita col pupazzone che è dolce Chanel vuoi fare tutto per andare con il divano è vero? oh Sbiro e Zeus come siete dolci mi fate emozionare ma anche voi chi ne paghi? oh ma questo è proprio un cuore Pedro anche tu sei l'amichetto ve lo mostrare il tuo amichetto ahahah tohi che bella faccia se ti tente ahahahah oh happy happy shalala hello gratitude happy ahahah e seguite i nostri aggiornamenti su R101 Wackspeakers e mandateci le vostre foto le vostre domande come hanno fatto Fiore e Tommaso che volevano sapere se il loro cane rock può sedersi in macchina insieme a loro ma certo anche io vado sempre in aereo guardate qua mi chieda ti raggiungo viaria volo da te volo e in un turbine di baci ti raggiungo ciao 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 ciao